Senza professore, secondo lei la testimonianza della mia Teresa Mazzaniello ha tutt'oggi ancora valida per noi intergenerazioni future? Voglio dire, qual è il messaggio che ci ha lasciato? Lei ha compreso il tradimento del modello del Consiglio? Buongiorno professore, provate il disturbo, ho letto il suo ultimo libro e ci vuole sapere se la possibilità che uno tocca a foto. Silvia, il sala è qualche anno fa, ma è il mio libro come si chiama? Raffaella, grazie mille, sicuramente. Stavamo scendo che lei ha compreso il tradimento.